Il messaggio forte è che con questa fiaccolata vogliamo rompere il muro dell'omertà sul problema dell'omertà. Vogliamo rompere il muro dell'indifferenza delle istituzioni ed il silenzio della marcia della fiaccolata dovrà essere più forte delle urla, anche perché gli enti, quindi prima persona e prevede, la provincia ed il comune, debbono determinare immediatamente una cabina di regia. Quando ho detto il silenzio dovrà essere più forte delle urla, non in termini minacciosi, ma sarà un primo momento reale perché dopo questa marcia seguiranno altri inseriti, forse ancora più pesanti. Noi a fine fiaccolata la rete determinerà una richiesta di incontro al prefetto, lunedì mattina la consegneremo e daremo i tempi utili, due settimane penso che bastano, affinché ci si riconvochi ma che su questa piattaforma si godizzi realmente una risorsa. Noi chiediamo un corte di formazione lavoro per 546 operare licenziali.